Le pagine di Cronaca riportano l'attenzione su un tema, la violenza, che non vorremmo mai definire di genere perché picchiare o stuprare e nel peggiore dei casi uccidere qualcuno è una tragedia scrivibile al genere umano. La violenza però si colora spesso di rose insieme al rosso del sangue ed ecco che senza scomodare i numeri delle statistiche nazionali, oltre un centinaio le danno uccise nel 2021 di cui il 50% per mano del partner si sposta all'attenzione su un territorio come l'Abruzzo e i nomi tornano alla memoria. Jennifer uccisa a Pescara il 2 dicembre del 2016, Monia l'11 gennaio del 2017 a Francavilla al Mare, a Lione il 3 settembre del 2019, sempre a Francavilla e andando indietro, Melania Rea ritrovata a Ribe di Civitelle il 2 aprile del 2011. Ora si aggiunta anche Eliana, l'impiegata di banca che lavorava a Pescara freddata ieri dal compagno in una villetta di Miglianico con un solo colpo. Le domande del dopo servono a chi resta, alla sorella e ai due figli e a cosa si sarebbe potuto fare per evitare un'altra vita spezzata. Il centro antiviolenza e l'associazione Ananchia porgono le loro condoglianze alla famiglia della vittima e ricordano tutte le vittime dei femminicidi che sono accaduti nel nostro territorio, il cui penso in queste famiglie quando sentono queste notizie il loro dolore si rinnova. La violenza, possiamo mettere le donne al sicuro dalla violenza, prevenendo le situazioni di rischio, con la valutazione del rischio, con il ricorso ai dispositivi legislativi come il codice rosso, il ricorso alle consulenze dei centri antiviolenza, ricordando che si può uscire ma non si può uscire da soli, perché ci sono molti uomini violenti che non accettano la scelta di libertà e di autonomia delle donne e reagiscono con la violenza a quello che è l'espressione dei diritti fondamentali di una donna, quella di autodeterminarsi e di essere felice. Inevitabile chiedersi cosa si può fare sulla formazione, sulla cultura e i fini di rendere preziose le differenze di genere e arginare il più possibile anche i vissuti dei futuri soggetti a rischio. Si può prevenire la violenza ovviamente sulle donne di oggi, ma attivando dei percorsi di prevenzione per le donne e gli uomini di domani. Percorsi di prevenzione che l'Associazione Antiviolenza Ananche ha già attivato con l'Associazione Nazionale Dire e sono dei percorsi importanti che vanno fatti sempre in maniera professionale per lungo tempo. Poi sicuramente avremo i risultati anche sulle giovani generazioni. Grazie.